L'eutanasia legale è il titolo dell'incontro dibattito che si è tenuto ieri sera al Teatro Miela di Trieste e anche della campagna promossa dai radicali, dall'UAR e dall'associazione Luca Coscioni. 25.000 le firme raccolte finora su tutto il territorio nazionale. Trieste, che sta toccando quota 3.000, è al quarto posto dopo grandi città come Milano, Torino e Roma. Il servizio di Eva Ciuc. Il cittadino deve essere libero di scegliere come morire e se sceglie l'eutanasia o il suicidio assistito, questo deve avvenire in un quadro legislativo chiaro che impone il rispetto di regole precise come quelle contenute nella proposta di legge popolare, rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Il messaggio lanciato dai sostenitori della campagna è stato chiaro. Si tratta di una questione che deve essere regolamentata e dunque discussa in Parlamento, è stato detto, per arginare il fenomeno del turismo dell'eutanasia. Chi può permetterselo e chi è in condizioni di spostarsi, parliamo di tre cittadini al mese, si reca in Svizzera dove si può scegliere la propria fine. Rimane la scelta dell'eutanasia clandestina. L'eutanasia clandestina si espone, come sull'aborto clandestino, alla violenza, ai soprusi, ai ricatti. Noi vogliamo sostituire la legalità, la regola, là dove invece vige la clandestinità, che è negazione della regola e anche della democrazia. Cappato ha parlato anche della paura, secondo lui, infondata, che la legge inciterebbe le persone a ricorrere più numerose all'eutanasia. Non è stato così con l'istituzione della legge sull'aborto e sul divorzio, ha precisato. Tutti i sondaggi dicono che oltre il 60% dei cittadini è favorevole all'eutanasia legale, addirittura nel nord-est, oltre il 70% tra gli elettori della Lega o tra i praticanti saltuali della religione. Da vent'anni vorrei capire quali buone ragioni possono sconsigliare l'introduzione, la legalizzazione dell'eutanasia in questo paese. Cioè, le cattive ragioni le conosco benissimo, ma le buone ragioni le sto ancora aspettando.